L'ISIS e l'Occidente è il tema della conferenza organizzata dall'Associazione Cultura e Progresso tenutasi sabato 9 aprile nella biblioteca comunale di Palazzo Ardizzone a Santa Maria di Licodia. Relatore il professor Alberto Giovanni Biuso, docente di filosofia teoretica presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche dell'Università degli Studi di Catania. Durante l'incontro il professor Biuso ha parlato del rapporto, estremamente diretto, che lega l'Occidente alla nascita dell'ISIS, evidenziando come decenni di spregiudicate politiche interventiste in Medio Oriente abbiano provocato come reazione l'insorgere di questo nuovo e pericoloso protagonista. Le dinamiche geopolitiche mondiali individuano nello scacchiere internazionale l'Occidente come responsabile di una situazione ormai sfuggita di mano. Una terza guerra mondiale a zone, iniziata l'11 settembre 2001 ed ancora oggi combattuta tanto in Medio Oriente quanto in Europa. IV24 ha intervistato il professor Alberto Giovanni Biuso. E' il filo rosso che unisce l'ISIS e l'Occidente? Ma guarda, è un filo rosso molto semplice, anche se non è facile da vedere perché lo si nasconde. Cioè l'ISIS esiste perché il vicino Oriente è stato destabilizzato. Basti pensare che la più parte dei capi dell'ISIS sono ex ufficiali dell'esercito di Saddam Hussein. Quindi se Saddam Hussein, se l'Iraq non fosse stato smembrato, distrutto come è stato fatto dagli Stati Uniti e dalle potenze occidentali, l'ISIS non esisterebbe. Semplicemente questo è un fatto. Quanto è importante parlare di questi argomenti in questo periodo storico-sociale così importante? Ma è molto importante perché ci tocca a tutti. Basti pensare anche a quello che sta accadendo in questi giorni a proposito della terribile fine di Giulio Regeni in Egitto. Sono tutti eventi collegati fra di loro. Noi in particolare i siciliani siamo a due passi dall'Africa del Nord e dal vicino Oriente. Quindi conoscere le radici e le modalità di quanto sta avvenendo in quelle aree è fondamentale anche per garantire la nostra sicurezza e per capire cosa stia accadendo non da quelle parti ma da noi.